Assessore, è cominciato questa mattina il progetto Giardival, la pulizia delle balaustre della splendida Villa Ormonde, degli splendidi giardini della Villa Ormonde. Certo, questa mattina abbiamo iniziato la parte strutturale, quindi quella di recupero, di restauro, di valorizzazione. Qua la parte legata alla balaustre, tutte le parti si parte dall'esterno, dalle strutture esterne, però contemporaneamente stanno lavorando su albivaio e stanno realizzando una serra, però la caratteristica è che è stata una serra di campagna, che è stata presa, è stata recuperata e quindi è anche antica, è anche in linea con l'epoca in cui è stato realizzato il parco, in cui è stata realizzata la villa. Cerchiamo solo di lavorare a bene. Sarremo non è solo festival, il turismo passa anche dalla bellezza dei giardini che hanno fatto la storia insieme alle ville della Città dei Fiori. Assolutamente, c'è la storia, c'è l'arte, perché è un'arte, quella dei giardini, dei parchi, c'è la bellezza, ma cosa c'è di più attraente?